Buonasera, tra poco insieme con le notizie del telegiornale. Allora, la politica, perché questi sono momenti, ore, decisive per la definizione delle alleanze. Chi va con chi, chi sta con chi, chi sta da solo. Le scadenze tecniche per la presentazione di liste dei candidati sono imminenti. Ma vedremo, anzi, inizieremo il telegiornale con un botta e risposta con quelli che sono indicati come i protagonisti di questa campagna elettorale. Letta e Meloni. Cosa è successo? Si sono scontrati sulla pandemia, ebbene sì, sulla gestione della pandemia. Perché da una parte Meloni ha detto avete costretto i giovani a casa, dall'altra parte Letta risponde meno male che non eravate al governo perché i giovani sono rimasti a casa nel periodo del lockdown iniziale della pandemia per proteggere i più fragili. Botta e risposta che ci fa capire quello che succederà nei prossimi giorni. Ma intanto dicevamo le alleanze, chi sta con chi. Ebbene oggi, allora, ce ne sono di dichiarazioni di prese di posizione e iniziamo un po' a capire. Conte risponde a chi lascia il Movimento 5 Stelle, durissimo. Allora, uno, il limite dei due mandati rimane, è confermato, sono eroi chi lo rispettano e invece la smettano di rompere le scatole quelli che stanno andando via. Così Conte. E poi oggi ha parlato Matteo Renzi, con chi va Renzi, spronto a correre da solo. Al centro dice, sentiremo le sue parole, così come sentiremo che al centro potrebbe esserci Carlo Calenda. Lo ufficializzerà domani. Mentre invece oggi, da oggi, sappiamo che con il centrosinistra, con un nome impegno civico, ci sarà il partito di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. E ancora, dall'altra parte, che succede? E dall'altra parte, lo sapete, diciamo così, si sono portati avanti con il lavoro. L'alleanza è definita, Meloni indicata come candidata premier, però anche lì candidati, liste, ce n'è da definire. Un vertice dello schieramento è in programma in settimana. Non solo perché, però, da chiarire, ci saranno alcuni passaggi importanti per quanto riguarda il programma. E su questo è intervenuto Salvini. Ieri quella dichiarazione sull'accelerazione, ma facciamo la squadra di governo, indichiamo i ministri prima delle elezioni. Salvini, oggi dice, e con lui Zaia, il presidente della Regione Veneto, leghista, governatore Zaia, dicono che nel programma ci deve essere l'autonomia, non si scappa da questo. Sentiremo che cosa diranno gli altri leader, come risponderanno Meloni e Berlusconi. Non solo politica, vedremo quello che sta succedendo in Ucraina, l'appello del Papa, ma anche i chiarimenti su chi ha colpito quel carcere dove sono rimasti uccisi 50 militari del battaglione Azov. E intanto Putin dice, noi siamo pronti con le armi, i missili ipersonici, a colpire chi mette in pericolo la Russia. Lo sport, Verstappen, protagonista assoluto, male le Ferrari al Gran Premio d'Ungheria. Questo è altro, cominciamo tra poco con i titoli. Grazie a tutti. Maio dice, l'ex 5 Stelle lancia impegno civico, mentre Renzi strizza l'occhio proprio a calenda e dice, noi siamo il terzo polo. E nel Movimento 5 Stelle Conte replica le parole degli ultimi fuoriusciti di Incai e Crippa, che vadano liberi in pace a cercarsi una nuova collocazione, ma non ci rompano le scatole, dice. Dal centrodestra Tajani torna sul tema delle tasse, ci batteremo per evitarle su patrimoni e successioni e sui presunti legami con la Russia aggiunge che Forza Italia è sempre stata a fianco di Occidente e Nato. La Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini maritmi con tutti i mezzi, assicura Vladimir Putin alla parata della Marina Militare a San Pietroburgo e attacca la Nato che minaccia la sicurezza, smentita la tesi russa di una responsabilità ucraina nell'attacco al carcere di Olevnica, costato la vita a 53 prigionieri della brigata Azov. Dalle immagini l'esplosione sembra causata dall'interno. Il brutale omicidio a Civitanova, Marche dell'ambulante nigeriano Alica. La famiglia chiede giustizia e non vendetta le scuse, dice la moglie, non bastano. Secondo l'avvocato, l'autore del pestaggio mortale, Giuseppe Ferlazzo, operaio di 32 anni, soffre di disturbi bipolari, tant'è che sua madre era stata nominata tutore di sostegno. Domani l'udienza di convalida del fermo. Ennesima delusione per la Ferrari, nel Gran Premio di Ungheria, la scelta sbagliata delle gomme penalizza Leclerc, mentre era al comando della gara a chiudere a sesto. Fuori dal podio anche l'altra rossa di Sainz, quarto. La vittoria va all'olandese Verstappen, autore di una entusiasmante rimonta. Mondiale ormai quasi deciso. Buonasera, allora dunque non abbiamo dovuto davvero aspettare tanto la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, è entrata decisamente nel vivo. Oggi il botta è risposta tra quelli che sono indicati i probabili protagonisti. Enrico Letta, segretario PD, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Polemica sulle regole della pandemia, dell'inizio della pandemia, che hanno penalizzato i giovani, sostiene la Meloni. Per fortuna che non eravate al governo, i giovani sono rimasti a casa per proteggere i più fragili, risponde Letta, insomma possiamo dire è veramente la campagna elettorale ufficiale è iniziata. Dico solo che per fortuna non eravate al governo durante la pandemia. I giovani rischiano poco, ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società è la solidarietà, non il salvarsi ognuno per conto proprio. Enrico Letta attacca Giorgia Meloni e lo fa rispondendo alla leader di Fratelli d'Italia, che poco prima aveva scritto secondo Enrico Letta i giovani sono stati rinchiusi in casa durante la pandemia, nonostante rischiassero davvero poco. Ora te ne accorgi Letta? Il centro-sinistra però è ancora lavoro nel cantiere delle alleanze, da contrapporre al centro-destra, già in campo. Il PD con Letta, che ripete questa destra si può battere, ha lanciato le nuove liste democratici e progressisti, cui hanno già aderito articolo 1, PSI e Demos, ma dal centro non arrivano segnali positivi per il Nazareno. Renzi attacca Letta e Carlo Calenda mette paletti in attesa di domani, quando farà sapere se accetterà l'alleanza con il PD. E intanto boccia duramente l'intesa con chi ha votato contro il governo Draghi, come Fratoianni e soprattutto Di Maio, responsabile, secondo il leader di azione, di aver cancellato il gasdotto con Israele, il contratto di oltre 4 miliardi sull'Ilva, la strategia energetica nazionale. Inoltre aggiunge ha tentato di far saltare la TAP e flertato con i gilet gialli. Cerchiamo di recuperare la memoria, il senso delle proporzioni e la dignità, conclude Calenda. Duro contro Di Maio anche Matteo Renzi, che sul Rai 3 dice Luigi Di Maio è il simbolo di tutte le battaglie che abbiamo combattuto in questi anni. Non credo si vinca con le ammucchiate, ma con le idee. Di Maio diceva che il PD strappava i bambini alle famiglie e usava l'elettroshock. Ma a Renzi non piace nemmeno l'idea di far pagare più tasse ai plurimilionari per sostenere i giovani lanciati ad Aletta. Aumentare la tassa di successione è folle. Nei paesi in cui c'è, avverte l'ex premier, le imposte sono più basse che in Italia. Abbiamo un paese che vive pagando troppe tasse. Possiamo almeno morire gratis e avere le successioni gratis? Subito dopo, nello studio di Lucia Annunziata, interviene proprio Luigi Di Maio, che annuncia il nome della formazione che sarà presentata domani. Per il momento, spiega, posso dire solo il nome, impegno civico. E poi il ministro degli esteri tocca il nervo scoperto dei presunti rapporti tra alcuni leader di centrodestra e la Russia e lancia l'idea di una commissione d'inchiesta. Perché, puntualizza, ci sono più ombre che luci. I legami tra forze politiche, leader italiani e mondi politici, economico e finanziari e russi sono da accertare. E allora, a proposito di alleanze, proposte di alleanze, arriva un aggiornamento. Naturalmente pronti a dare aggiornamenti per tutti gli schieramenti. Ma arriva per quanto riguarda, nel frattempo, per il centrosinistra. Ed è il segretario del PD Letta che parla. Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un terzo polo, che si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile, un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti, dice appunto Letta a una festa regionale del Partito Democratico. Ripeto, pronti a dare aggiornamenti per quanto riguarda tutti gli schieramenti. Il centrodestra, come sappiamo, ha raggiunto l'accordo per quanto riguarda il candidato, la candidata premier, in caso di successo, chi prende un voto in più. Sarà appunto il nome di chi correrà per andare a Palazzo Chigi. Ma poi ci sono altri passaggi da definire, le liste, i candidati, Salvini accelera in accordo con Tajani. Potremmo presentare prima la squadra dei ministri, dicono Salvini, d'accordo con Zaia, dicono ancora mettiamoci d'accordo su anche alcuni punti fondamentali del programma, a partire dall'autonomia. La politica fiscale del PD e della sinistra sarà quella di continuare con il solito vecchio ritornello dell'aumento delle tasse. Noi ci batteremo per evitare tasse su patrimoni e successioni. Nell'ultima domenica di luglio il centrodestra cala un'altra carta del suo programma e da sempre un cavallo di battaglia del trio Meloni, Salvini e Berlusconi. Oggi Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite dall'Annunziata, ha lanciato un appello perché si possa votare anche lunedì ed è poi tornato sui legami con la Russia. Il partito del presidente Berlusconi è il gruppo italiano in Europa che insieme a Fratelli d'Italia ha votato più testi critici contro Mosca. L'Italia è sempre al fianco di Occidente e Nato, ha aggiunto, provando così a spegnere le relazioni sul caso Russia che qualche imbarazzo crea nella coalizione. Sono giorni di riflessione per Berlusconi. Il leader lascia la scena ai suoi colonnelli. Tajani resta cauto sulla proposta di Salvini di svelare in anticipo alcuni nomi per i ministeri più importanti. Berlusconi sta pensando a tanti nomi. Ipotesi tremonti al Ministero dell'Economia non faccio valutazioni. Da domani inizia una settimana delicata. Il cronoprogramma è serrato. Il centrodestra si riunirà almeno in tre occasioni per rafforzare l'alleanza e fare chiarezza sulle proposte. Sulla questione tasse si è fatta sentire anche Giorgia Meloni. Letta lo ammette. La patrimoniale è il pilastro del suo programma. Gli italiani potranno scegliere votare PD con più tasse oppure votare Fratelli d'Italia che si batterà per tutelare chi produce ricchezza e crea lavoro, dice. Non solo Letta, Meloni risponde anche al ministro della Salute e Speranza che sulla coalizione ha detto questa destra è pericolosa le politiche che metterebbe in campo aumenterebbero le fratture sociali. Con quale coraggio parla di fratture sociali? Proprio lui che attraverso chiusure insensate e l'obbligo del Green Pass ha messo in ginocchio migliaia di imprese e imprenditori, chiude Meloni. Colletta che in serata replica per fortuna non governavate voi durante la pandemia. Sponda Lega Salvini ribatte al PD sulla proposta di Letta di una dote per i diciottenni da finanziare con una tassa di successione sui patrimoni multimilionari. Chi sceglie il PD sceglie più tasse scrive su Twitter il segretario del Carroccio è in Romagna, prima Bellaria, Igea Marina, stasera Cervia per la festa del partito, domani tocca ai governatori Zaglia e Fedriga. Il presidente del Veneto auspica un cambiamento del centrodestra, non si può lasciare alla sinistra il monopolio del pensiero sociale o l'ambiente. Essere di centrodestra non vuol dire coccolare a Marcord ideologici. E' uno scontro durissimo interno al Movimento 5 Stelle vede protagonisti il capo politico Conte e chi in queste ore ha lasciato, sta lasciando il Movimento? Chi lascia cerchi la sua collocazione ma non rompa le scatole dice Conte. Risposta a Dinka e Crippa che in alcune interviste hanno addossato, scaricato la responsabilità della caduta del governo Draghi proprio su Conte. Sono eroi quelli che non sono si sono ricandidati dice ancora Conte io non mi ricandido aggiunge risponde l'ex ministro della giustizia Buonafede. Che vadano liberi in pace a cercarsi una nuova collocazione ma non ci rompano le scatole. Alla fine di un lungo post su Facebook Giuseppe Conte non risparmia una stilettata agli ultimi fuoriusciti illustri del Movimento 5 Stelle l'ex capogruppo a Montecitorio Davide Crippa e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dinka non citati ma evidenti fra le righe dell'accusa di ingratitudine quando persone che hanno avuto tutto dal movimento e sono arrivate dove sono grazie ai nostri principi e alle nostre regole diventando ministri capigruppo sottosegretari decidono di rinnegare tutto questo scrive il leader 5 Stelle potrebbero agire quantomeno con discrezione ci risparmino i tentativi di nobilitare questi loro mutamenti di rotta riferimento a due interviste di giornata Crippa che sul Corriere della Sera imputa Conte di aver affossato il progetto del campo largo riformista e progressista e di aver consegnato la testa di Draghi alla destra Dinka che racconta di aver maturato la scelta di lasciare il movimento proprio il mercoledì di luglio in cui è caduto il governo una giornata che non poteva rappresentare me e i miei valori spiega il ministro mi sono sentito estraneo al mio stesso gruppo entrambi non negano un dialogo con il centro-sinistra con il quale potrebbero ricandidarsi se non con il PD con liste di area ma respingono l'accusa di aver preso la decisione dopo la conferma del limite del doppio mandato che avrebbe lasciato fuori entrambi proprio sulla regola dei due mandati si concentra l'ampia riflessione di Conte che ne riconosce qualche controindicazione vedi la rinuncia all'esperienza acquisita dai veterani definiti eroi nelle tante assemblee via Zoom con gli attivisti di questi giorni non possono ricandidarsi ma li avremo comunque al nostro fianco in campagna elettorale garantisce l'ex premier e così infatti ha promesso fra gli esclusi Roberto Fico al quale sarebbero stati rivolti secondo un articolo della stampa i tentativi di seduzione del PD smentiti però dal Nazareno e dallo staff del presidente della Camera fra gli esponenti storici del movimento a fine corsa c'è anche Alfonso Bonafede l'ex guarda sigilli in un post su Facebook cerca di correggere la narrazione dei giorni passati che lo vedeva fra gli amareggiati per la linea dura imposta dal garante non ho mai chiesto alcuna deroga scrive l'ex ministro si può fare buona politica sia dentro che fuori dai palazzi ci dovrebbero essere anche la proroga dello sconto sui carburanti il bonus bollette ma anche un taglio del cuneo fiscale di un punto percentuale tra i provvedimenti contenuti nel decreto aiuti bis atteso in consiglio dei ministri la prossima settimana intervento a sostegno di famiglie e imprese ma poi c'è anche l'emergenza lavoro sarà un'estate di lavoro per Mario Draghi e per i politici italiani questi ultimi ad inseguire gli elettori vacanzieri ma anche quelli che per ragioni di budget in vacanza non ci andranno secondo un sondaggio SVG per Confcommercio sono 4 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di non partire per ragioni economiche rispetto almeno a quanto previsto due mesi fa il dimissionario Draghi invece è impegnato a blindare il PNRR sia per garantire al paese le cospicue rate di fine anno sia per fare in modo che il governo che verrà dopo di lui non smonti un giocattolo complicatissimo che sotto la sorviglianza della commissione di Bruxelles per l'Italia vale 235 miliardi di euro il premier però non vuole togliere le castagne dal fuoco ai partiti che l'hanno disarcionato per cui ha già detto a Mattarella che la prossima legge di bilancio se la scriveranno i vincitori nella speranza che ad ottobre ci sia un governo ma già da questa settimana l'ex presidente della BCE suo malgrado dovrà tornare a vestire i panni del mediatore in occasione del decreto aiuti bis un provvedimento omnibus che alza le pensioni taglia il prezzo dei carburanti e un pochino anche il cuneo fiscale un calderone di misure dovuta al carovite e ai prezzi dell'energia che però non conterrà l'atteso taglio dell'iva sui beni alimentari Draghi e il ministro dell'economia Franco non sarebbero infatti convinti della misura a loro dire poco selettiva ossia della quale beneficerebbero anche gli ambienti misura che peraltro alcuni politici da Salvini a Di Maio a Laura Castelli si stanno già vendendo in questa campagna elettorale estiva dove stanno per arrivare puntuali anche le richieste delle parti sociali preoccupate che la febbre delle alleanze faccia passare in secondo piano i problemi e i programmi per risolverli oggi la fondazione di Vittorio quindi la CGL a chiedere interventi su condizioni di lavoro precarietà salari natalità oltre a più immigrati visto che da qua a vent'anni il calo demografico farà mancare quasi 7 milioni di lavoratori Confindustria invece secondo quanto riporta la stampa si appresta a far sapere ai partiti i suoi 18 desiderata che includono un freno ai prepensionamenti un intervento sul reddito di cittadinanza l'abolizione dell'IRAP e benefici fiscali a chi applica i contratti collettivi misura questa preferita al salario minimo e adesso l'Ucraina con l'appello lanciato da Papa Francesco l'unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare le parole di Bergoglio ma la guerra va avanti le navi cariche di grano ferme per il rifornimento di grano ferme perché non vengono rispettati gli accordi di Istanbul anzi oggi Putin da San Pietroburgo dove ha partecipato alle celebrazioni della Marina Russa ha lanciato nuovi avvertimenti o minacce è un Vladimir Putin fiero orgoglioso quello che si mostra in navigazione a San Pietroburgo per festeggiare la Marina Russa e firmare il nuovo regolamento della dottrina navale nazionale celebrazione in pompa magna per annunciare tra le altre cose l'imminente consegna alle forze armate navali dei missili ipersonici Zircon armamenti che l'industria bellica russa ha progettato e realizzato per colpire portaeree incrociatori e caccia torpedinieri nemici annuncio a cui ha fatto seguito un monito dello zar la Marina d'ora in poi sarà in grado di rispondere alla velocità della luce a chiunque decidesse di violare la nostra sovranità e la nostra libertà dice Putin nelle stesse ore la controparte ucraina avrebbe salutata la Kermes di San Pietroburgo attaccando con un drone armato lo stato maggiore della flotta del Mar Nero e ferendo cinque persone nulla in confronto con le cifre non ancora note delle vittime provocate dai massicci bombardamenti che Mosca sta riservando alla regione di Mikolaiv con 40 attacchi in 24 ore e quella di Kherson dove le truppe di Kiev hanno colpito due roccaforti russe da settimane in mano agli occupanti i combattimenti in Donbass versante S continuano furiosi ieri il presidente ucraino Zelensky ha di fatto ordinato a più di 200 mila abitanti della regione di Danesk di abbandonare le loro case 52 mila di questi soggetti sono bambini ancora Zelensky ha promesso giustizia per i 53 detenuti ucraini morti nella prigione di Olenivka i russi hanno subito accusato Kiev di aver attaccato via cielo il campo di prigionia russo per mettere a tacere i soldati irregolari ucraini e le milizie a ZOV circa i crimini di guerra commessi secondo Mosca contro civili e militari russi una tesi che queste immagini satellitari sembrano però smentire in una foto del 27 luglio al centro dello schermo si vede una struttura coperta da un tetto in lamiera in una foto scattata ieri la stessa struttura appare con la tettoia distrutta e le lamiere puntate verso l'alto come se la deflagrazione fosse avvenuta all'interno della casupola a causa di una bomba quasi certamente non riconducibile ai prigionieri ucraini e dopo l'avvertimento della Cina di essere pronta ad una risposta energica e vigorosa Nancy Pelosi presidente della Camera del Congresso degli Stati Uniti avrebbe deciso di annullare la tappa prevista a Taiwan nel suo viaggio nel sud-est asiatico anche se manca la conferma ufficiale alla fine Nancy Pelosi a Taiwan ha dovuto rinunciare la presidente della Camera dei rappresentanti americana per giorni ha tenuto con il fiato sospeso le cancellerie di Mezzomondo dopo aver annunciato l'intenzione di voler far tappa durante il suo viaggio programmato in Asia anche sull'isola di Taiwan sarebbe stata la prima visita di un presidente della Camera statunitense a Taiwan dal 1997 ma la Cina che considera l'isola suo territorio nazionale dal 1945 e vuole annetterla alla madrepatria anche con la forza ha considerato l'annuncio di Pelosi una provocazione e lo ha fortemente sconsigliato chi gioca con il fuoco si dà fuoco ha avvertito il presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con Joe Biden il primo dopo quattro mesi di silenzio ma lo stesso presidente americano che aveva ritenuto poco opportuna la visita della speaker sull'isola adesso non ha mancato di ribadire a sì di essere contrario agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan sino a poco prima di partire Pelosi non ha chiarito se sarebbe andata o meno a Taiwan alzando la tensione fra Washington e Pechino migliaia di persone hanno addirittura seguito su internet il percorso del suo aereo per capirne la destinazione sino a quando la presidente ha pubblicato il programma ufficiale del viaggio in Asia Giappone Corea del Sud Malesi e Singapore niente Taiwan pericolo scampato forse perché invece secondo alcuni media cinesi sulla base di fonti di intelligence la speaker americana il 4 agosto partirà dalla base Clark dell'aeronautica americana nelle Filippine e si recherà a Taipei dove incontrerà la presidente Tsai Ing-wen poi nel pomeriggio del 5 agosto partirà alla volta di Tokyo se davvero accadrà ancora non si sa fatto sta che nel frattempo nel mar cinese meridionale è arrivata la porta aerea americana Ronald Reagan accompagnata dalle aeree da guerra un'operazione pianificata spiega Washington ma per molti servirebbe a scortare la visita di Nancy Pelosi sull'isola non si è fatta attendere la reazione di Pechino che dopo avere già avviato esercitazioni militari a largo dello stretto di Taiwan ha avvertito la difesa della madrepatria è una missione sacra per l'esercito popolare di liberazione cinese sono due sorelle di 15 e 17 anni Alessia e Giulia Pisano di Madonna Castenaso in provincia di Bologna le due ragazzine investite e uccise questa mattina da un treno dell'alta velocità in transito nella stazione di Riccione la tragedia si è consumata intorno alle 7 quando le due adolescenti sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari sembra barcollando il convoglio che viaggiava verso Milano le ha investite in pieno alla loro identificazione si è giunti solo dopo ore grazie alla presenza di un cellulare sul punto dell'impatto alcuni testimoni hanno raccontato di aver urlato per avvisare le ragazze ma soprattutto una delle due non sembrava nel pieno controllo di sé la polizia ferroviaria e l'autorità giudiziaria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica per ora questa mattina per ore il traffico ferroviario sulla direttrice è andato in tilt con cancellazioni e ritardi ed ora ed ora macerata invece a Civitanova Marche dove in programma domani nel carcere di Ancona l'udienza di convalida del fermo nei confronti di Filippo Ferlazzo l'uomo che venerdì scorso a Civitanova ha ucciso Alika Ogorcociu ambulante nigeriano si terrà domani nel carcere di Ancona l'udienza per la convalida del fermo nei confronti di Filippo Ferlazzo per l'omicidio di Alika Ogorciukwu l'ambulante nigeriano di 39 anni ucciso venerdì scorso in pieno giorno nel centrale Corso Umberto a Civitanova Marche il difensore dell'aggressore operaio di 32 anni accusato di omicidio volontario e rapina ha intenzione di chiedere la perizia psichiatrica del suo assistito che a lui ha riferito di essere invalido e di avere problemi psichiatrici documenti del tribunale di Salerno attesterebbero una sua forma di bipolarismo indicazioni di un'instabilità emotiva confermate dal fatto che la madre sarebbe stata nominata suo tutore di sostegno ulteriori verifiche sono in corso un pestaggio dall'esito tragico secondo gli inquirenti per futili motivi le cui dinamiche sono state ricostruite attraverso le immagini riprese dalle telecamere dei negozi e dai video girati dai passanti la vittima ha avvicinato Ferlazzo a passeggio con la compagna forse per vendere qualche oggetto la donna si è poi allontanata da sola entrando in un negozio è a questo punto che scatta la furia feroce di Ferlazzo prima insegue l'ambulante poi lo colpisce con una stampella utilizzata dalla stessa vittima a seguito di un incidente stradale da ultimo lo butta a terra picchiandolo senza sosta per 4 minuti provocandone la morte a mani nude dalle immagini la conferma che nessuno dei presenti è intervenuto l'omicida è stato individuato dalla polizia grazie all'indicazione di un testimone troppo tardi per salvare Alica giaceva a terra e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per rianimarlo è morto in strada in quella stessa strada ieri spontaneamente si è riunito un corteo di coloro che chiedono giustizia in prima linea la comunità nigeriana che si costituirà come parte civile e ha già annunciato sabato prossimo una nuova manifestazione di protesta e la nascita del comitato 29 luglio per ricordare il giorno del brutale omicidio le scuse non bastano vogliamo giustizia il comune di Civitanova annuncia solidarietà per la famiglia della vittima la moglie e il figlio di 8 anni l'intenzione dell'amministrazione di destinare ai parenti un aiuto prolungato nel tempo mentre è stato già istituito un fondo di 15.000 euro per l'immediato sostentamento e per le spese del funerale la formula 1 adesso con l'impresa di Max Verstapp che ha vinto risalendo dal decimo posto il gran premio di Ungheria disastro Ferrari quarto Sainz sesto con polemica verso il team Leclerc doccia gelata sulla Ferrari anche se la temuta pioggia ha risparmiato l'Hungaro Ring una metaforica ghiacciata che congela un intero mondiale dalle tante illusioni e dalle troppe delusioni partendo dalla seconda e terza posizione in griglia con le due Red Bull decime ed undicesime la Ferrari aveva un'occasione irripetibile per accorciare il divario dal leader Verstappen su un tracciato in cui per l'86% delle volte il successo finale era andato a uno dei primi tre delle qualifiche una possibilità apparsa portata di mano al giro 31 quando Leclerc superando la Mercedes del Polman Rassel è salito in testa purse con Verstappen in furiosa rimonta ma da quel momento la speranza rossa si è scolorita fino al bianco il bianco della gomma montata al secondo pit stop sulla monoposto del Monegasco palesemente inadatta alle basse temperature dell'asfalto ungherese un errore come ammesso nel post gara dal team principal Binotto un suicidio agonistico per quello che è accaduto in pista a una Ferrari in crisi anche sul passo gara ha fatto da corrispettivo una Red Bull perfetta nelle strategie con un Verstappen più forte delle statistiche solo tre volte un pilota aveva in precedenza vinto a Budapest partendo più indietro dalla seconda fila e persino più forte di se stesso nemmeno un testa coda lo ha privato dell'ottavo centro stagionale che ha portato a 80 i punti di vantaggio su un Leclerc alla fine malinconicamente sesto e a dare ulteriori temi di riflessione alla Ferrari nel mese di pausa della stagione c'è anche il ritorno della Mercedes il podio del Lungaro Ring è lo stesso di quello francese di una settimana fa con il sempiterno Hamilton secondo ed il rampantissimo Russell terzo davanti a Sainz sia in gara che da oggi anche nella classifica piloti e adesso il team di Toto Wolff è soltanto 30 punti dietro la Ferrari nella graduatoria per squadre dominata dalla Red Bull a metà mondiale già con le mani sul 2022 dopo il telegiornale ospiti di in onda da De Gregorio e Perenzo ci sono Alan Friedman Luigi Conto e Antonio Tajani adesso pausa ci rivediamo tra poco con gli eventuali aggiornamenti di nuovo in studio per ricordarvi l'appuntamento con l'informazione con il telegiornale della notte adesso in onda buona serata grazie a tutti